Il caso diventa spia e la spia può diventare caso. Grazie. Allora, diciamo che io l'ho partito da questa metafora spia e oggi sono portato a rileggere quel saggio che scrissi pubblicato nel 79, spie, radici di un paradigma indiziario, sono portato a rileggerle attraverso questa attenzione al caso che poi è diventata attenzione anche alla casuistica. Allora, la spia può emergere attraverso il caso e anche la ricerca del caso, però non necessariamente. Io credo che, certamente nell'idea di spia, allora c'era per me moltissimo, per esempio, la lettura di Spitzer. Quando Leo Spitzer, questo grande critico vienese che dice, sì, bisogna leggere un testo, rileggerlo, rileggerlo e poi click. Allora, il click è il click, diciamo, della macchina fotografica, penso. Il click è l'accensione immediata quando il critico si imbatte in un tratto che è un tratto, allora io a questo punto direi sì, una spia. Ecco. Quindi, diciamo, però la spia è già un segnale positivo. Il caso, come, diciamo, atmosfera in cui la spia può emergere è qualcosa di un po' diverso. Però io ho sottolineato, diciamo, questo intreccio, l'omonimia fra caso e caso, perché mi pare interessante. E questo è per rispondere alla sua domanda.